Musica Sembrava una creatura mitologica, stramba, con queste due gampette e quattro braccia Il tip-tap io lo ballo da tantissimi anni, anche abbastanza bene E c'è quello che abita sotto che non è po' più ovvio Anche lui è appassionato di tip-tap, però diceva beh, a me piace il tip-tap Però tutto il giorno io non posso sentire, per cui ci siamo andati degli orari Troppo divertente Fintus disperato, guarda, guarda, Fred A un certo punto cercavo di non guardarlo E c'ho avuto un momento veramente difficile Cazzo, cazzo Non so perché ballava il tip-tap e faceva il giro del teatro Senza motivo Va avanti poi Ma perché sono tutti bravi a fare il tip-tap forte Fallo lungo Non finisce più Insostenibile Fermatelo, mi prego Fermatelo Poi ti viene addosso come una specie di trance Così ti gira tutto Consiglio a tutti al posto della droga Non è umano Non è Non è un'esprezio Non è una specie di trance Grazie a tutti